Questa settimana a Montegiano prende vita una festa molto sentita e che voi portate avanti da diverso tempo. Sì esatto, questa settimana per l'esattezza giovedì, venerdì, sabato e domenica ci sarà la festa della Crescia Saikukun. Questo è il decimo anno, la decima edizione. È una festa che richiama la tradizione culturale e storica del nostro paese perché protagonista della festa è appunto la Crescia di Pasqua. Crescia che è una pizza a base di formaggi, quindi salata, che le nostre nonne proprio per la Pasqua preparavano e abbinavano ai cucun che sono le uova a sole. Avete pensato di cucire il 25 di aprile con il fine settimana classica? Sì esatto, non ci piaceva lasciare un buchetto, quindi l'abbiamo riempito in tutte e quattro le giornate, anche se le giornate piene saranno il 25 e il 28, mentre il 26 e il 27 ci sarà solamente la serata, diciamo, danzante con due gruppi, i The Party Cars il venerdì sera e invece il sabato sera una serata country con un gruppo country di Rimini. Allora, chi vuole consultare il programma completo di queste quattro giornate, dove lo può trovare? Allora, il programma completo lo può trovare sia su Facebook che su Instagram, naturalmente sotto il nome Associazione Culturale Montegiano C'è. Allora, però il motore di questa festa, come sempre, sono i volontari, tutti coloro che si danno da fare per la buona riuscita. Esatto, l'importanza del volontariato in questa festa, infatti volevo concludere con questa breve filastrocca poesia inventata proprio dalle persone di Montegiano, perché infatti dice, è presto spiegato il successo di questi dieci anni, dove a Montegiano puoi incontrare una maglietta blu da 2 fino agli 80 anni. Ogni volontario spinto dalla voglia di esserci e partecipare, perché è solo con il contributo di ciascuno che la festa si può fare. Montegiano c'è! Montegiano c'è!